È un redditometro federalista che tiene conto del reale stato delle famiglie e delle spese, effettivamente sostenute dal contribuente, quello che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2011 e che proprio in questi giorni ha il vaglio del Presidente della Repubblica come decreto legge e che comporrà la manovra estiva del Governo. Un redditometro studiato proprio per combattere l'evasione fiscale e che servirà per far scattare controlli fiscali mirati. Si terrà conto, si monitorerà tutto quello che la persona fisica, il singolo cittadino italiano acquista effettivamente e si va a controllare che non ci sia uno scarto tra il dichiarato e le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente. La differenza deve essere almeno del 20%, cioè di un quarto. Questa è una novità perché nel vecchio redditometro era il 25%. Quali sono le principali spese? Oltre alle solite che si conoscono l'acquisto di automobili di grossa cilindrata, di inattanti, l'acquisto di immobili, l'acquisto di cavalli, di caravan, polizze assicurative, colf in regola. Si aggiungono altri elementi che indicano la capacità di spesa corrente, quindi l'iscrizione dei figli a scuole famose, a scuole importanti, a scuole d'elite che richiedono rette elevate, oppure la partecipazione a club esclusivi, a club IPC, oppure l'acquisto in case d'asta, l'acquisto di oggetti preziosi, la frequentazione di casi no, ma ancora l'accensione di mutui, di leasing, di contratti di leasing, di finanziamenti. Uno strumento democratico perché permetterà di effettuare controlli trasversali non solo su lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche su disoccupati, pensionati e casalinghe e che terrà conto anche della residenza del contribuente. La novità del nuovo redditometro è che diventa quasi federalista, nel senso che si terrà conto, ad esempio, di dove si vive, quindi nelle città del nord rispetto a quelle del sud o se si vive in campagna rispetto alla città proprio metropolitana, vera e proprio, perché chiaramente gli oneri, le spese da sopportare sono diverse. E inoltre, altra grande novità è che si terrà conto del nucleo familiare.